Buongiorno a tutti, sono Andrea, sono un infermiere, compio proprio oggi 28 anni e sono volontario alla pubblica assistenza di Montemarciano da 12 anni. A causa del Covid ho trascorso tutte le festività dell'anno che si è appena concluso, lontano da casa, dagli affetti e anche dalla mia associazione. Sentendomi però quasi quotidianamente con tutti gli amici dell'Avis ho avuto modo di apprezzare, di tastare, di sentire il grandissimo lavoro e i tanti sacrifici che hanno svolto per continuare ad assicurare il loro servizio nel nostro comune. In particolare, nonostante il carico emotivo e psicologico che hanno sopportato, sono riusciti a svolgere il loro lavoro quotidiano con grande professionalità. Tra pochi mesi dovrei tornare a casa e una delle prime cose che intendo fare è quella di reindossare la mia divisa arancione da volontario. Diventa anche tu il mio angelo.